Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio! Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio! Con cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. chi vi parla è Antonio Latrippa in questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso se io mi dicessi che una volta letto mi batterei per Roccasecca, nostro amato paese fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case voi mi credereste? Sì! E se io mi dicessi che questi signori sono persone onorevoli degne di freggiarsi di questo appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per i beni del paese voi mi credereste? Sì! E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli ingenui dei fessaggiotti dei deficienti degli incoscienti perché io una volta letto per Roccasecca non potrò fare un cacchio dico cacchio! Appena saranno retti faceranno i loro sforzi delle tani sui sforzi della casa e te lasci che lasci e te non saranno soltanto i loro sforzi affari e saranno fessi perché sono baffoni 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 non battagli per me non battagli per me baffoni più baffoni con cittadini amici fratelli paesani compaesani italiani al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio Latrippa. In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io mi dicessi che una volta letto mi batterai per Roccasecca, nostro amato paese, fare costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! E se io mi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di freggiarsi di questo appellativo parlamentare e che adopereranno i vostri voti per i beni del paese, voi mi credereste? Sì! E allora sapete cosa vi dico? Che siete degli incerui, dei fessacchiotti, dei deficienti, degli incoscienti, perché io una volta letto per Roccasecca non potrò fare un cacchio. Dico cacchio! Appena saranno i loro sporti a fare e faranno fessi perché sono baffoni! 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 Non votate per me! Non votate per me! Vota Antonio! 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 Con cittadini, amici, fratelli, paesani, compaesani italiani, al di qua e al di là del mare, vicini e lontani. Chi vi parla è Antonio Latrippa! In questo momento cruciale per la vita del nostro paese bisogna separare il bene dal male, il vero dal falso. Se io vi dicessi che una volta letto mi batterai per Roccasecca, nostro amato paese, farei costruire scuole, strade, acquedotti, case, case, voi mi credereste? Sì! E se io vi dicessi che questi signori sono persone onorevoli, degne di freggiarsi di questo appellativo Parlamento... Vota Antonio! Vota Antonio! Vota Antonio! Vota Antonio! Vota Antonio! I TALIA!